Almeno un acquisto per reparto, è questo quello che il tecnico del Palermo Eugenio Corini avrebbe chiesto alla società, rinforzi con buona esperienza alle spalle e che possono dare una seria mano per poter raggiungere quel sogno salvezza che partita dopo partita diventa sempre più difficile. Il centrocampo, sotto emissione dello stesso Zamparini, sarà il reparto più ritoccato. Il primo nome è quello di Luca Cigarini che a Genova, Sponda Sampdoria, non sta trovando spazio. Sarà comunque difficile vedere l'ex Atalanta vestire la maglia rosa nero dato che in estate fu proprio Zamparini a bocciare l'affare. Più facile invece è la pista che porta ad Alberto Grassi, che il Napoli ha girato in prestito all'Atalanta ma che qui non sta trovando lo spazio sperato. Atteso operazioni anche in difesa, visti i continui infortuni e soprattutto in attacco, Nestorowski è infatti l'unica punta di ruolo in casa Palermo e quindi trovare un sostituto al Macedone resta la priorità sul mercato per il reparto avanzato. Nel frattempo, ieri, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno contro il Genoa, per chi è sceso in campo nella sconfitta contro il Chievo, un lavoro di scarico dopo il riscaldamento in palestra. Il resto del gruppo ha svolto invece dei lavori tecnici in campo concludendo la seduta con una partita in porzione ridotta del terreno di gioco. Non ha lavorato col gruppo Ivailo Chocev, il bulgaro, infatti si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti dopo il trauma distorsivo contusivo alla caviglia destra, rimediato domenica contro il Chievo. Grazie a tutti.